Grazie Presidente. Registro che siamo di fronte a un'evoluzione dei decreti legge, direi un decreto legge 4.0, perché eravamo in qualche modo abituati ai decreti legge macedonia, come era chiamato il collega Ricciardi in discussione generale, perché effettivamente c'è un put purri di norme e di materie in questo decreto, che va dalle bollette alle misure in materia di salute, ad alcune proroghe sugli adempimenti fiscali, fino al famigerato scudo penale. Ci stavamo abituando, e lo abbiamo visto anche con l'esame di questo provvedimento, ad uno svuotamento del ruolo del Parlamento, a cui ormai viene impedito di emendare anche in prima lettura. Ci stavamo abituando a un nuovo monocameralismo, di fatto è a corrente alternata, una volta svolgeva il suo ruolo il Senato e una volta alla Camera, ora nessuno dei due. Ma qua si inaugura un nuovo strumento legislativo, il decreto legge dissimulato. Infatti il titolo del decreto legge, ribattezzato decreto legge bollette, farebbe pensare a un decreto costruito ed emanato per sostenere le famiglie, le imprese e i cittadini contro il caro energia, e invece non è proprio così. Perché in questo decreto vengono tagliate tutte le aliquote degli aiuti che erano già in vigore. Le aliquote dei crediti d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica passano infatti dal 45% al 20%. Per le altre imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, ugualmente le aliquote vengono più che dimezzate dal 45% al 20%, così come per le altre imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Ma non finisce qua, perché il decreto all'articolo 2 riduce del 65% gli sconti di una componente tariffaria della bolletta del gas, che si chiama UG2C. Ed infine, anziché pensare a riscuotere il contributo di solidarietà delle imprese che hanno fatto profitti enormi sul rincaro dell'energia, quindi profitti enormi pagati dagli italiani, li si premia riducendo la base imponibile e quindi il gettito per 402 milioni di euro. Quindi ecco perché parlo di decreto legge dissimulato. Si dà il titolo, si cerca di far capire, di far percepire che si vuole fare una cosa, invece si fa tutt'altra cosa. Quindi un consiglio spassionato al governo, ma anche ai giornalisti, la prossima volta non date un nome al decreto, perché poi ci si affeziona al nome e quando si scopre cosa contiene si può anche rimanere delusi. Capisco che serve il titolo per la stampa, servono le schede per i telegiornali, però consiglio la prossima volta di chiamarlo con un codice o con un acronimo, tipo quello della componente tarifaria che avete deciso di far pagare nuovamente sul gas. Decreto UG2C, ad esempio. Risulterà un po' incomprensibile, però almeno non prendete in giro nessuno. E almeno sarà incomprensibile, correntemente, come incomprensibile la scelta di inserire nel decreto bollette uno scudo penale per i grandi evasori. Presidente, io penso di conoscere abbastanza bene le difficoltà delle partenze che riguardano anche il pagamento delle imposte, il pagamento dei contributi previdenziali, delle ritenute dei dipendenti, difficoltà che riguardano l'insostenibile complessità del nostro sistema tributario. Ma la norma che inserite in questo decreto è che depenalizza i reati di omesso versamento per chi aderisce alla tregua fiscale, a patto che i versamenti vengano effettuati entro la sentenza di appello, non riguarda loro, non riguarda i piccoli contribuenti in difficoltà. I piccoli contribuenti in difficoltà... Sottolineo la parola almeno, perché quella è la soglia minima di punibilità. Quindi parliamo di importi molto più elevati, parliamo di importi di milioni di euro. Quindi smaettetela per cortesia di parlare di contribuenti che hanno dichiarato le imposte e poi hanno avuto difficoltà a pagare. Qua le piccole imprese in difficoltà non c'entrano niente. Qua si consente a questi colletti bianchi di iscrizione o nella improcedibilità, visto che nella norma non è prevista sprefilattici sperimentali. Emendamenti analoghi sono stati presentati anche dalle altre forze politiche, anche dalla maggioranza. Alla fine l'emendamento rifiuta l'emendamento, calpestando la volontà del Parlamento e diritti di chi porta avanti la ricerca del nostro sistema sanitario in una condizione di oggettiva, nel vero senso della parola, precarietà. Quindi il Governo non ha usato su questo emendamento la stessa sensibilità che ha invece mostrato nell'espressione di un parere favorevole ad un emendamento che consente agli odontoiatri di effettuare operazioni di chirurgia estetica fregandosene delle indicazioni contrari dei medici e anche un po' della sicurezza dei pazienti. Tre vari emendamenti non abbiamo presentato uno di vera semplificazione, semplificazione è una parola che è tanto inutilmente abusata, lo stiamo vedendo da questo Governo, e che in un primo momento abbiamo pensato potesse trovare parere favorevole. Il decreto prevede che per fruire del credito d'imposta sugli extracosti sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia sia l'impresa stessa a chiedere il calcolo di questi extracosti al proprio fornitore. Quindi noi con l'emendamento abbiamo semplicemente proposto che il calcolo venisse effettuato in automatico dal fornitore, senza attendere la richiesta del cliente. Una richiesta appunto di buonsenso e di semplificazione per le imprese che è stata rigettata dal Governo. Questo quindi fa capire quanto gliene possa fregare al Governo delle imprese. Nulla, nonostante i proclami. Decreto legge dissimulato appunto. Presidente, le battute sul fatto che questo Governo si fosse presentato in campagna elettorale pronto, a suo dire, ormai si spreccano. Io francamente sono preoccupato perché questo Governo si sta mostrando un inutile veicolo di alcuni potentati che ammettono le norme che privilegiano poche ristrette ed esclusive elite, grandi imprese di sistema, che hanno fatto grandi affari sulle difficoltà degli italiani e che possono continuare a vivere tranquille e indisturbate. Pensiamo solo alla nostra continua richiesta di tassare gli extraprofiti di banche, società farmaceutiche, assicurazioni, industrie delle armi. Una continua richiesta che è bellamente e continuamente ignorata dal Governo. Un Governo che, a seconda, e lo abbiamo visto, il fastidio nei confronti dei cittadini in difficoltà, ma anche della classe media, delle piccole imprese e lo sta dimostrando ad ogni provvedimento che demolisce pezzo dopo pezzo tutte quelle nostre misure che hanno funzionato e che erano rivolte proprio a questi destinatari, dal reddito di cittadinanza passando per il super bonus fino alla transizione 4.0. Quindi, in conclusione, Presidente, noi voteremo no alla fiducia su questo provvedimento perché colpisce chi invece avrebbe dovuto aiutare, ma anche per un motivo molto semplice. Noi di questo Governo non ci fidiamo. Grazie, Presidente.